L'antenna della discordia in via Sicilia con ogni probabilità si farà. Abbiamo fatto di tutto per scongiurare l'ipotesi, ha dichiarato l'assessora comunale Francesca Luccherini, ma niente, non ci siamo riusciti. Un amaro epilogo così per i residenti della zona che hanno costituito un comitato e raccolto oltre 1800 firme per fermare l'installazione della torre che sorgerà a pochi metri di distanza dalle abitazioni. L'amministrazione ha incontrato i rappresentanti della società che si occupa della progettazione e realizzazione. Se in da subito spiega l'assessora abbiamo perseguito con forza ogni strada utile a contemperare gli interessi di una collettività e quelli imprenditoriali, cercando una soluzione il più possibile condivisa e proponendo alla società un'alternativa articolata in due fasi temporali. La prima provvisoria rappresentata dal co-sitting e la seconda e definitiva fase sarebbe stata invece rappresentata dall'individuazione di una postazione compatibile con i progetti della società da inserire nel nuovo piano per la telefonia in corso di stesura e i cui contenuti saranno resi noti in consiglio comunale. Da parte dell'ente locale non è invece percorribile la ricerca e l'acquisto di una nuova area privata diversa da quella individuata. La situazione ad oggi, riassume l'assessora Luccherini, è dunque che la società ha ottenuto da Arpata l'autorizzazione a realizzare un impianto in un determinato sito privato per il quale ha assunto precisi impegni contrattuali, effettuato investimenti e iniziato i lavori, come noto poi bloccati dall'amministrazione. Il via libera dell'Arpata è arrivato in virtù del fatto che l'agenzia è l'unico soggetto che può esprimersi sulla quantità e qualità delle emissioni elettromagnetiche sulla tutela della salute e dando il suo placet ha evidentemente ritenuto che non sussistono rischi per i cittadini. In conclusione, la rinuncia al nuovo impianto non è ritenuta attuabile dalla società che se andrà avanti nei lavori di installazione come i suoi rappresentanti hanno ribadito sarà nella totale legittimità di farlo e il Comune non avrà alcuno strumento normativo per bloccare tale operazione.